Prenda un volantino! Tenga! Per favore! Stupido lavoro! Ho chiuso! Ne ho abbastanza! Guardo il mio anime preferito, piuttosto! Wow! Naruto si è clonato! Aspetta! Posso clonarmi anch'io? Ha funzionato! Ciao! Clone il tuo lavoro e distribuire volantini! Qualunque cosa sia! A non dimenticare il cappello! Io mi prenderò una pausa! Stupido lavoro! Sono stufo! Guarderò la tv piuttosto! Eh, ti capisco! Pulirò il pavimento al volo e ho fatto! Ehi! Ma tranquillo! Dai! Lo fanno apposta! Perché tutti devono andare nello stesso reparto nello stesso momento! C'è senza lattosio? No! Che ne dice di questo? Basta! Il pavimento è lava! I clienti stanno andando alla grande! Fantastico! Ci sono molte cose qui! E ho ancora bisogno di sistemare questo! Me ne occuperò più tardi! Siamo a casa! Scusa, non sei il designer di interni? Beh, sì, ovviamente! Penso che questo design sia davvero unico e abbia un ottimo impatto! Quindi questo è il progetto! Non c'è di che! Ho dei clienti che mi aspettano! Ciao! Divertente! Coach, sono pronto! Cominciamo! Bene, iniziamo! Sceglierò il peso migliore che non sarà mai in grado di sollevare! Fatto! Vai! Ce la posso fare? Questo lo terrà occupato per un po'. Oh no, chi è? Coach, qual è il prossimo? Ti faccio vedere! Sono stanco di tutto questo! Ogni giorno è lo stesso! Avanti! Potrei fare una pausa! Una copia cartonata funzionerà altrettanto bene! Non andare da nessuna parte! Vado a fare un pisolino! Il film sta per iniziare! Ecco il biglietto! Ecco il mio biglietto! Biglietto! Vabbè! Se la cava molto bene! Chiamato urgente al 911! Chi ha bisogno di aiuto? Io non ho fatto niente! È lei! Cosa? È lui il ladro! È lei! Non lui! Qui ci vorrà un bel po'. Ci penseranno i vigili del fuoco! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Sono esausto! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Salve, dottore! Ehi, dottore! Non sto dormendo! Dottore, ho un mal di denti terribile! Vediamo se è comodi! Faccio qualcosa! Certo! Cominciamo con l'anestesia! Un'iniezione! Oh no! Il paziente si è addormentato! Posso fare un pisolino anch'io? È bollente! Ehi, ho un'idea! Boss! Sto molto male! Devo tornare a casa a riguardarmi! Wow! Hai la febbre! Nick, devi prendere subito le medicine! Grazie! Per la tua finta malattia! Torna al lavoro! Una matita! Sara, hai una matita? Grazie! Non funziona! Meno male che ho delle altre! Sara, saresti così gentile da passarmi la cartella? Certo! Ecco qua! Ma quando la finirò? Sara! 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 È ovunque! Il mio cervello sta per esplodere! Sì, capocerto! Sara lo farà sicuramente! Abbastanza! La pianta! Ottima idea! Mi serve un ramo più grande! Sara! Dove sei? Torni presto! Ecco fatto! Ho bisogno di una pausa! Ma dov'è andata la cassiera? Questa pausa è troppo lunga! È una vergogna! Non si preoccupano affatto dei loro clienti! Il servizio è davvero pessimo! Ho chiuso! Andrò in un altro posto! Giusto! Ho aspettato abbastanza! Andiamo! Non è rimasto nessuno! Adesso posso rilassarmi! Se non faccio pausa pranzo, posso finire entro stasera! Ragazzi, lasciate perdere quello che state facendo! Occupatevi di questo progetto! Le modifiche dovevano essere fatte ieri! Perderemo la scadenza! Anne, occupatene tu! Boss, non posso stressarmi! Presto sarò mamma! Cosa? Davvero una sorpresa! Bene, Nick, sei l'unico che può farlo! Il tuo tempo inizia adesso! Fantastico! Il cuscino tornerà utile! Come faccio a fare tutto? Ehi! Incredibile! Oh, profumi! Fammi provare! Oh! Buon pomeriggio! Cos'è questo odore? Non si preoccupi! Bene, vorrei farli mossi! Parecchio! Certo! Cominciamo con un massaggio alla testa! Fatto! Funziona ogni volta! Sono troppo pigra per fare una vera acconciatura! Una parrucca andrà bene lo stesso! Onde incredibili! Bellissima! Sveglia! Fatto! Wow, fantastico! Spalortitivo! Cosa? È una parrucca! Eh... Si calmi! Oh! Oh, ragazzi! Sembra che dovrò lavorare ancora per un po'! Questo lavoro è super noioso! Mi è venuto in mente qualcosa! Cosa sta facendo? Le mani dei manichini possono fare tutto al posto mio! Oh, il mio capo! Sono molto impegnata! En, ho bisogno di queste carte oggi! Sarai impegnata! Posso contare solo su di te! Cosa è impegnata a fare? Bere il tè! Ti è piaciuto il nostro video? Allora commenta e dici quale modo per sfuggire al lavoro ti è piaciuto di più! Premi e iscriviti! Metti like a questo video e clicca sul campanello! Non perdere nessuno spettacolare video di WooHoo o A Motion! Ciao! Ciao!